I nostri studi di Milano, Luigi Pagliuca, a cui do il buongiorno, è il presidente della Cassa dei Ragionieri. Benvenuto. Buongiorno a lei. L'abbiamo invitata perché nei giorni scorsi, in particolare con un convegno mercoledì, lei ha lanciato l'allarme sui bilanci a rischio delle casse di previdenza delle professioni. In sostanza, lei dice che il ragioniere che oggi è in pensione, in alcuni casi, se è pensionato secondo le vecchie regole, mi corregga naturalmente se sbaglio perché l'argomento non è semplice, prende il quadruplo di quanto ha versato e ciò va a gravare sulle casse e mette in pericolo le pensioni dei futuri pensionati. È così? Mi spiego meglio. L'ho spiegato a mio figlio in maniera abbastanza semplice. Ecco, lei faccia conto che noi, io e i telespettatori, siamo veramente all'asciutto di queste materie. Ci spieghi proprio in maniera semplicissima. Faccia finta di vedere un contenitore. 100 persone si avvicinano a questo contenitore e mettono dentro una pallina, che sono i loro contributi. I primi che si avvicinano, il primo, il secondo, il terzo, prelevano due palline. Fin quando sono i primi, il primo, il secondo e il terzo non avranno problemi, il 49esimo non avrà problemi, il 50esimo non avrà problemi, il 51esimo non troverà più nulla. Allora, se io con i vecchi pensionati do una pensione di 3.200 euro e ai nuovi pensionati, a quelli che verranno fuori, darò una pensione di 800 euro, il sistema è squilibrato. Noi, questo, il governo ha dato un correttivo, ha dato la possibilità di utilizzare quello che è il prorata, ovvero si ha detto, va bene i diritti acquisiti, però se il mantenere il diritto acquisito mette in pericolo la stabilità dell'ente, potete attuare dei correttivi. La sentenza della Cassazione ha preferito tutelare di più i diritti acquisiti con i diritti dei futuri pensionati. Qual è la cosa grave? La cosa grave è che si rischia di innestare un processo a catena. Prima salta la Cassa dei ragionieri. Lei consideri soltanto che solo se tutti quanti i colleghi che ne hanno diritto dovessero chiedere immediatamente l'arretrati, noi avremo immediatamente un 10% del nostro patrimonio, ovvero sia 200 milioni di euro. È un aumento di spesa intorno ai 17 milioni di euro ogni anno. Noi avremo veramente la possibilità, la sicurezza di collassare. Questo accadrebbe alla nostra Cassa. Brevemente chiudo perché siamo in chiusura anche noi. Perfetto, succede alla nostra Cassa, succede a tutto il sistema previdenziale privato, l'Inps sarebbe costretta a pagare noi e conseguentemente farebbe collassare il sistema previdenziale nazionale. La ringraziamo. Ringraziamo voi telespettatori per averci seguiti.